Guardate questo video fino alla fine, perché si parla di uno degli orgogli nazionali, e cioè la lavorazione del vetro. Siamo a Venezia e l'artigiano sta realizzando questo prodotto soffiando ancora a mano. La lavorazione del vetro è antichissima, ma le tecniche di base sono rimaste pressoché identiche. I primi vetrai lavoravano il vetro soffiando attraverso una canna di bambù, tecnica che si è poi evoluta fino all'uso del tubo in metallo che conosciamo oggi. Il vetro di Murano è diventato così famoso che molti imitatori cercavano di produrlo, spesso utilizzando tecniche illegali o di bassa qualità. Per questo motivo nel 1271 il governo della Repubblica di Venezia ordinò ai vetrai di trasferirsi sull'isola di Murano. Come saperne di più? Beh, facile, iscrivendovi ad Ingegneria Italia!